Cari amici di Forbes Leader, oggi vi proponiamo un approfondimento nel mondo dell'immobiliare e ci siamo fatti aiutare in questo viaggio da una realtà internazionale di grande rilievo, si chiama Remax e noi abbiamo la fortuna di avere ospite qui con noi oggi la persona che ha portato Remax in Italia 25 anni fa. Sto parlando di Dario Castiglia che è il presidente e nonché il fondatore di Remax Italia, grazie. Grazie per avermi invitato. Dunque, iniziamo questo nostro approfondimento presentando un po' Remax che ha 25 anni di attività in Italia e la prima cosa che mi avrebbe da chiedere a lei che è il manager che l'ha portato qui da noi, quali sono stati gli inizi e quanta strada avete fatto in questo frattempo? Beh, diciamo che l'inizio di Remax, la casa madre, risalgono al 1973 e sono ad opera del fondatore che è Dave Lineger. La nostra storia, la storia italiana nasce nel fine 95, inizi 96, degli inizi abbastanza, diciamo, anche umili, se vogliamo, partendo proprio da piccoli passi. Io all'epoca vivevo in Canada e quindi arrivai con la famiglia, due bambini piccoli. Un'avventura sicuramente è stata l'inizio. Siamo partiti da un ufficetto che era circa 75 metri quadri qui in Italia, mentre oggi abbiamo un building completamente di nostra proprietà a Milano. Quindi diciamo che tanta acqua è passata sotto questi ponti. È stato un viaggio molto bello, molto difficoltoso all'inizio, perché sicuramente ci sono state tante sfide da vincere, anche perché importavamo un modello completamente diverso da quelli che erano i modelli di franchising presenti sul mercato. Però eravamo convinti che il nostro modello fosse un modello vincente. Di fatto oggi possiamo guardarci indietro e riconoscere con soddisfazione che avevamo anche ragione, eravamo stati lungimiranti nel vedere quale poteva essere il futuro del modello di agenzia immobiliare. Ecco, voi per il 2021, cioè l'anno che sta andando a concludersi, avete un fatturato stimato intorno ai 110 milioni di euro, quindi avete fatto tantissima strada. Questo è il fatturato aggregato. Il fatturato aggregato. Esatto, esatto. E quali obiettivi avete davanti e quali sono, secondo lei, le tappe principali del percorso che vi ha portato oggi? Beh, allora, sicuramente l'obiettivo è quello di continuare a crescere, anche perché noi abbiamo una buona quota di mercato, ma il mercato è sicuramente molto più, c'è ancora tanta strada da poter percorrere. Come siamo arrivati a questo punto? È stato puntando esclusivamente su quella che è la crescita dell'azienda, quindi diciamo che il nostro focus principale è sempre stato quello di affiliare nuove agenzie al nostro network e poi in un secondo tempo far crescere anche queste agenzie in termini di persone. Noi abbiamo un modello di business che porta le nostre agenzie ad essere delle vere e proprie aziende con veramente tante persone. È il modello dello studio associato. Che è un po' quello che vi contraddistingue rispetto ai competitor. Assolutamente sì. Voi avete una rete di quasi 5.000 agenti. Esatto. A cui offrite tutta una serie di servizi. Esatto. E noi abbiamo agenzie, insomma, oggi chiamarle agenzie è quasi riduttivo. Sono degli veri studi associati con, abbiamo il più grande in Italia, oggi c'è a 200 associati, cioè quindi 200 agenti immobiliari che lavorano da un'unica struttura. E questo, insomma, porta una serie di vantaggi agli agenti. Porta una serie di vantaggi a tutti. Infatti il nostro slogan, il nostro motto è win-win, tutti i vincenti. In primis porta vantaggi al nostro affiliato diretto, che noi chiamiamo broker, perché ovviamente ha l'opportunità di crearsi una struttura con tante persone e quindi creare quelle che sono delle economie di scala, delle sinergie, che poi si riversano anche sugli associati, che collaborano tra di loro e quindi possono scambiarsi non solo informazioni sugli immobili che loro acquisiscono, ma anche proprio delle esperienze, quindi imparare l'uno dall'altro e questo accresce, diciamo, l'intera struttura. Dunque, voi avete, con questa grande rete sul mercato, sicuramente il polso della situazione. Tra l'altro avete i dati del mercato immobiliare praticamente in tempo reale. Esatto. Si parla tanto di un mercato immobiliare frizzante in seguito alla pandemia. Io volevo chiederle, visto che lei è un esperto del settore, quali sono i motivi? Beh, come ha ben detto lei, uno dei motivi di questa effervescenza del mercato attuale è dovuto anche grazie o per colpa della pandemia. La pandemia ha sicuramente suscitato in tutti il desiderio di migliorare la propria qualità abitativa. Questo dovuto al fatto che abbiamo passato molto più tempo in casa in questi ultimi tempi e poi anche perché c'è stato un cambiamento nel mondo del lavoro. Quindi si lavora molto più da casa, il famoso smart working o lavoro da casa e quindi la gente si è resa conto che doveva avere degli spazi più grandi, magari doveva avere una stanza in più per poter passare magari anche semplicemente quelle due giornate in più alla settimana o tre giornate in più alla settimana da casa, lavorare da casa, richiedono sicuramente altre esigenze. Poi l'esigenza di avere magari degli spazi ricreativi più importanti di prima. questo insieme a delle condizioni finanziarie, quindi del credito ai minimi storici, particolarmente vantaggiosi, perché parliamo di tassi di interesse veramente bassi, questo sta portando a una forte crescita di quelli che sono gli scambi nelle transazioni. Noi gestiamo quelle, quindi per noi è un momento veramente erosio questo qua. E tra l'altro mi anticipava prima, poco prima di iniziare questa intervista, che voi avete in cantiere una serie di progetti per fornire nuovi servizi, no? Certo, certo. Beh, diciamo che la maggior parte dei nostri progetti sono all'insegna di quelli che possono essere la formazione e l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica che ha subito anche una forte accelerazione ancora una volta grazie alla pandemia e quindi noi abbiamo sviluppato dei progetti molto interessanti che possano legare ulteriormente il cliente ai nostri agenti immobiliari. Abbiamo creato per esempio un'app relazionale, quindi non la solita app per consultare un sito, vedere gli immobili, ma proprio per far sì che il cliente e il nostro consulente possano comunicare in maniera efficace ed efficiente in tempo reale. In più abbiamo puntato molto su quelli che sono i big data, quindi la gestione dei dati, che sono tutto oggi, quindi la conoscenza del dato permette ai nostri agenti di arrivare a delle valutazioni accurate per poter permettere al cliente di ottenere il miglior prezzo di mercato e di velocizzare l'acquisto o la vendita. E quindi questo ha il vantaggio che da una parte la tecnologia mantiene un legame umano con il vostro agente e in che modo va a migliorare l'esperienza d'acquisto? Beh, migliora l'esperienza d'acquisto nel momento in cui rende tutto più semplice, più fluido. Quindi il fatto di avere in tempo reale tutte le informazioni su quello che il proprio agente stia facendo sulla vendita del proprio immobile, piuttosto che avere in tempo reale tutte le offerte che il nostro agente ci può presentare e supportate poi da sistemi, diciamo, da tecnologie di video, di presentazioni di video, di dicendo che permettono in qualche modo di risparmiare tempo, perché poi alla fine oggi il cliente cerca tre cose, sicuramente il miglior prezzo di mercato sia nella vendita che nell'acquisto, però cerca anche la comodità e la velocità dell'esecuzione e questi elementi possono essere raggiunti grazie all'innovazione tecnologica. Per concludere questo nostro percorso alla scoperta del mondo Remax, vorrei chiederle un'altra cosa, una delle ultime novità che tra l'altro avete introdotto quest'anno si è parlato tanto di cashback, ho saputo che anche Remax ha introdotto un'iniziativa del genere, ma la lascio spiegare da lei. Esatto, esatto, sì sì, il Max Cashback, di fatto si è parlato appunto molto di cashback nell'ultimo anno, anno e mezzo, e anche a noi è venuta l'idea di poter offrire un cashback ai nostri clienti per poterli premiare di aver utilizzato i nostri servizi. Ed è un'iniziativa che abbiamo appena lanciato, che permette ai clienti che hanno comprato e venduto casa con noi, o anche che ci hanno dato la casa in vendita, di ottenere un cashback, quindi un rimborso diciamo direttamente sul loro conto corrente con l'acquisto di quelle cose che sono necessarie per una casa quando uno compra o vende casa, cioè gli arredi e tutto quello che gira attorno al mondo della casa con un'iniziativa di Promore. Quindi sostanzialmente, vabbè, voi offrite la tecnologia, il mercato in questo momento è particolarmente vantaggioso per chi vuole acquistare casa, e in più anche questa formula che può ulteriormente agevolarli nell'acquisto di casa. Assolutamente sì, questo è il regalo che noi facciamo ai nostri clienti. Io ringrazio molto il Presidente Dario Castiglia per essere stato qui con noi, e per averci raccontato il mondo Remax e gli andamenti del mercato immobiliare. Grazie. E noi ci troviamo qui tra pochi istanti per presentare il prossimo ospite.